compatte, allora non ci sono linee di passaggio pulite per il Barcellona, qui Artur subisce fallo da John Jordan, posizione già battuta Artur palleggia il Barça, Busquets, Coutinho, di prima Suárez, Coutinho, Suárez, che bello, Suárez apre il destro e segna, azione davvero da videogioco del Barcellona Coutinho per Suárez, in un attimo si sono accesi e hanno fatto 1-0